Erano un centinaio, di fronte al Teatro Massimo, i giornalisti che hanno partecipato ieri alla manifestazione per difendere la libertà di stampa attaccata dal vicepremier Di Maio. A sostenere lo striscione libertà di stampa uguale democrazia, i professionisti che non accettano i continui attacchi da parte della politica. Il segretario dell'Asso Stampa, Roberto Ginex, ha messo in evidenza quanto sia pericolosa questa forma di terrorismo nel momento di sofferenza che sta attraversando l'editoria. E i giornalisti si sforzano di fare al meglio il proprio mestiere con risorse sperso scarsissime. Intanto il premier cerca di placare i toni, rassicurando la categoria, ma nel frattempo il sindacato e la FIEG hanno intrapreso una campagna in difesa della libertà di stampa, richiedendo la pubblicazione di una pagina sui quotidiani in cui viene riportato il testo dell'articolo 21 della Costituzione.